Buongiorno a tutti, vediamo se l'inquadratura funziona, mi pare di sì, è venerdì 5 ottobre, sono le ore 14.30 direi in punto, come vedete dal setting sono tornato a Milano per il fine settimana, quindi ci vediamo da qui e anzi vi anticipo già che domani sabato l'appuntamento per le ore 17, come sapete di sabato ci vediamo in un orario che vi consente di pranzare con le famiglie senza problemi. Come faccio di solito con venevoli iniziali, mi raccomando di piggiare su questa freccettina dove c'è scritto condividi in modo tale da invitare quante più persone possibili a questa nostra diretta e poi naturalmente potete fare la stessa cosa, cioè piggiare condividi anche sul video che resterà di questa diretta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina facebook sulla quale siete in questo momento o anche sul canale youtube. Detto questo voglio segnalare subito l'assegnazione del premio Nobel per la pace, sapete che viene assegnato a Oslo ogni anno ed è stato assegnato a Dennis Mukwege Mukwege e a Nadia, ovviamente il nome adesso è un momento di black out, comunque è assegnato a una donna irachena di etnia yazida, Nadia Murad, eccola, Nadia Murad, donna irachena di etnia yazida, mentre invece Dennis Mukwege è un medico della Repubblica Democratica del Congo, tutti e due lavorano su un tema molto importante che è il lavoro contro le violenze sessuali utilizzate come strumenti di guerra. In particolare la storia di Nadia Murad è la storia di una ex schiava sessuale dell'ISIS che poi appunto ha cominciato a occuparsi di diritti umani e credo un premio Nobel assegnato, tra l'altro quest'anno sapete che non è stato assegnato il Nobel per la letteratura, c'è stato molto casino nell'Accademia a Stoccolma, ma direi che questa volta è un premio assegnato in modo molto molto puntuale e giusto perché accende un faro su questa cosa terribile, questo dramma di ogni tempo, cioè l'uso delle donne in guerra a scopo sessuale. E tra l'altro mi sembra giusto che appunto il premio vada a due persone così anche perché la tragedia della violenza sulle donne appunto non è soltanto una tematica di guerra purtroppo, è una tematica, è una piaga della nostra società, non è soltanto una cosa di oggi, una cosa diciamo così che affonda le sue radici nel passato più remoto, ma della quale non riusciamo liberarci. Ricordiamoci sempre che anche in Italia vengono uccise moltissime donne e spesso dai loro compagni, mariti e da persone che appunto in realtà dovrebbero essere le persone che le amano e non denunciamo mai abbastanza questa tragedia. Io penso che invece appunto sia il caso di farlo e volevo approfittare appunto di questa decisione presa appunto a Oslo del premio Nobel per la pace per dire due parole, sentite su questo e riflettere anche con voi su questa cosa tragica. Tra le altre cose, visto che parliamo di donne coraggiose e Nadia Murad sicuramente lo è, fatemi anche dire una cosa che sento molto, penso di non averla mai detta, ma è doveroso che lo faccia a supporto e sostegno di Federica Angeli, che sapete questa giornalista di Repubblica molto coraggiosa che è stata fatta oggetto di minacce molto pressanti dal clan Spada a Ostia, minacce che sono state reiterate anche nelle ultime ore e sui giornali di oggi. Federica Angeli è una persona veramente estremamente coraggiosa e io vorrei che sentisse anche la nostra vicinanza, mia, e sono sicuro di tutte le persone che sono in questo momento in diretta a seguire questo nostro incontro. Prima di andare avanti, tra l'altro, devo chiedere, devo dire una cosa, perché ieri ho avuto un'interessante conversazione con una delle persone che seguono queste dirette che mi ha detto ah ma tu non leggi mai messaggi e non ci rispondi, non facciamo una cosa interattiva. Io devo dire che mi trovo abbastanza bene così, nel senso che poi vi leggo e vi rispondo appunto per iscritto, vi rispondo magari il giorno dopo e non faccio altro perché adesso vi faccio vedere cosa succede se leggo. Tra l'altro è arrivata zia Mariolina, mia zia, ciao, Maria Rosa che dice forza Federica, insomma guardo fuori camera, perdo il filo e quindi mi incasino. Se preferite che facciamo così possiamo anche provare ma insomma io preferirei tenermi i miei 15 minuti, dirvi tutto quello che devo e poi rispondervi volta per volta. Boh, fatemi sapere, comunque apriamo un dibattito anche su questo. Ecco però la persona che ieri mi rimproverava mi diceva non rispondi mai, io penso di essere uno che risponde spesso, quasi sempre, insomma cerco di rispondere, non mi pare di essere poco accessibile ma insomma volevo spiegarvi il perché le mie dirette funzionano così. Manovra finanziaria, ragazzi, cosa devo dirvi? A parte il fatto che c'è stato un incontro tra il Presidente della Repubblica e Mario Draghi, il governatore, diciamo il Presidente della BCE, perché naturalmente c'è una grande preoccupazione in tutto il mondo per un paese così grande come l'Italia, si dice too big to fail, no, troppo grande per fallire e troppo grande per essere salvato e che prende decisioni che sono decisioni completamente scriteriate. Appunto si dice che ci sia un filo diretto tra Mario Draghi, Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia e il Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica che tra l'altro non si stanca mai di ricordare ai nostri governanti, alla maggioranza di governo che in Italia esiste una Costituzione che quella Costituzione va rispettata in modo sacrale perché è quella che è detta le regole del gioco, è detta delle regole del gioco molto chiare anche in tema di salvaguardia del risparmio e di tenuta dei conti pubblici, detta anche delle norme molto precise in tema di migranti e di diritto internazionale. Sapete che il Presidente della Repubblica ha anche firmato il famoso decreto di Salvini, il cosiddetto sicurezza e immigrazione, ma ha mandato anche una lettera contestualmente al Presidente del Consiglio Conte, appunto ricordandogli che esistono delle norme costituzionali molto precise e degli obblighi internazionali a cui il Paese non si può e non si deve sottrarre. Questo sempre a dimostrazione poi che tutto avviene, come dire, in una forma di propaganda per cui si va sui balconi a fare poi i cortei dei parlamentari con le bandiere in Palazzo Chigi, anzi si fanno anche le feste, abbiamo scoperto che c'è stata una festa di Di Maio per fare team, a quanto pare, e tra l'altro avessimo fatta noi una cosa del genere sarebbe successo un disastro, io sono sicuro di questo, vabbè ma sono ragazzi, insomma lo sappiamo, sono ragazzi, si devono divertire. Però appunto quello che non si diverte è il Paese, adesso finalmente questa nota di variazione del DEF è arrivata in Parlamento, per cui ovviamente anche i giornali, noi politici l'abbiamo esaminata, la stiamo guardando, ci sono grandi cifre ma veramente non si riesce a capire come si farà a reperire i fondi se non facendo un deficit enorme, lo sapete che si parla del, chiedo scusa, del 2,4% per l'anno prossimo e poi a calare, ma sempre su delle previsioni di crescita del Paese a dir poco illusorie e quindi vedremo appunto le cose come andranno e vedremo soprattutto come sarà la dinamica con l'Unione Europea una volta che appunto le cose saranno scritte nero su bianco e i documenti saranno inviati a Bruxelles, Bruxelles dovrà dare una sua valutazione sui conti. Sapete che nel frattempo la Borsa di Milano perde, soprattutto il settore bancario che è quello più colpito perché naturalmente il debito pubblico sta soprattutto nella pancia delle banche e quindi quando sale lo spread perde di valore, i titoli perdono di valore e quindi anche la capitalizzazione delle banche, la loro solidità diventa meno forte, devono quindi rifinanziarsi e quindi devono farlo un tasso di interesse superiore. Poi non ci dimentichiamo che c'è anche Standard and Poor's che dovrà tra poco, presto, fare la sua valutazione. Sapete che i nostri titoli sono soltanto due gradini sopra i famosi junk, cioè i famosi titoli spazzatura e se si va a titoli spazzatura sostanzialmente si diventa dei paria, si diventa come dire non si attitola di avere neanche fondi per esempio anche dall'Unione Europea, diventa tutto molto più problematico senza parlare poi dei vari interventi che la banca centrale europea fa. Insomma una situazione molto delicata e molto preoccupante, c'è questo atteggiamento come ho detto propagandistico, un po' anche alla muoia Sansone con tutti i filistei, chi ce ne importa? Noi abbiamo soltanto il mandato del popolo e quindi facciamo un po' quello che vogliamo, dimenticandoci appunto che poi alla fine è il popolo che paga le conseguenze di queste manovre scelerate. Che cosa dire? Ovviamente seguiamo ogni questione con grande attenzione, io naturalmente vi terrò aggiornati anche del lavoro che facciamo in Parlamento, che faremo in Parlamento nelle prossime settimane, tra poco si apre la sessione di bilancio, quindi sostanzialmente ci occuperemo di questo, lavorerò anche con i colleghi della Commissione Bilancio, a partire da Luigi Marattini, il nostro capogruppo in Commissione Bilancio, poi c'è Piercarlo Paduan, Maria Elena Boschi, insomma abbiamo una compagine molto guerrita e quindi vi terrò aggiornati momento per momento sulle cose che succedono. Io mi fermerei qui a questo punto, dieci minuti, siamo stati anche brevi, succinti e compendiosi, anzi come direbbe l'onorevole Tripiedi, brevi e circoncisi per così dire, e quindi mi fermo qui, vi do appuntamento, come vi ho già detto, quindi vi ricordo che l'appuntamento per domani alle ore 17, domani sabato 6 ottobre, nel frattempo come ormai per tradizione vi indico la freccetta del condividi perché sapete che questa diretta resterà poi sul mio sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e naturalmente sul mio canale YouTube. Vi auguro un eccellente venerdì sera e vi aspetto domani pomeriggio alle ore 17. Ciao!